Ho tentato di scrivere questa pasquinata con la quale vorrei aprire questo nostro incontro dedicandolo appunto al povero Giulio Reggeni. Io so certo che c'è sta un filo rosso tra la morte di quel povero Reggeni e gli traffici sospetti con gli saraceni che sti bastardi fanno de nascosto. L'hanno massacrato mille pezzi e perché avevano usato troppi olezzi, insomma che qualcosa di molto ozzozzo parma sempre a mano dello schegnozzo. Così hanno fatto finta di esserci sbagliati e gli italiani moffingono de stancazzati, se scambiano i governi e l'accusa grave e nessuno fa un cazzo per trovare a chiare. Dice, sì vabbè, questa storia è mistero, ma io non so del tutto scemo e parlo serio perché c'è un chiodo fisso nel pensiero, se stanno a barattar l'armi e l'oro nero. Ecco, questa è lì. Grazie.